Salve a tutti letterati e letterati, bentornati su questo canale. Oggi appuntamento importante, per cui mettetevi comodi, preparate una tisana, anzi no, una tisana no, che sennò poi va addormentata, è meglio un caffè, perché parliamo della scuola siciliana. Ed è argomento questo che ci serve poi per parlare della scuola toscana del dolce stilnovo, per cui imprescindibile cogliere con esattezza le caratteristiche di questa poetica. Come detto nel video precedente, il 200 fu un secolo molto importante dal punto di vista economico e ciò comportò anche il nascere, il fiorire di una nuova cultura, che fa dell'uso del volgare la sua caratteristica principale. Più che di volgare bisogna però parlare di volgari, al plurale. Infatti non esistendo un'unica lingua, facciamo riferimento per parlare del contesto italiano dell'epoca alla nozione di plurilinguismo linguistico. Attenzione però, perché a differenza della poesia religiosa, il volgare che viene impiegato dalla scuola siciliana è un volgare alto, un volgare particolarmente lirico, ricercato, un volgare che non ha l'intenzione di rivolgersi al popolo, bensì all'élite. E ciò per diretta derivazione dell'influenza dei poeti trovatori, in particolare alla corte di Federico II, un monarca che possiamo definire un sovrano illuminato, molto attento ad ogni forma di arte, in particolare all'arte letteraria e poetica. I poeti siciliani di cui facciamo riferimento sono tutti funzionari di Stato. Notai come Jacopo Dalentini, cancellieri come Pier delle Vigne, giudici come Guido delle Colonne. E la poetica siciliana affronta, come già quella provenzale, solo ed esclusivamente tematiche amorose, riprendendo procedimenti stilistici, forme metriche e tematiche chiaramente cari alla poetica provenzale. Vi saranno comunque diversi elementi di innovazione apportate proprio dai poeti siciliani. Si pensi soltanto all'invenzione del sonetto, introdotto per la prima volta da Jacopo Dalentini. Il sonetto è una composizione formata da due quartine e due terzine, in rima solitamente incrociata o alternata. Vediamo tra poco come era composto appunto un sonetto di Jacopo Dalentini. Una delle principali differenze tra la scuola siciliana, di cui stiamo parlando oggi, e la scuola toscana, che sarà l'argomento di un prossimo video, è il fatto che nella scuola toscana, oltre alle tematiche amorose, si avvicendano anche argomenti politico-civili, mentre ciò non era possibile in un contesto profondamente diverso dal punto di vista politico, come quello siciliano. La corte di Federico II era una monarchia, che impediva ovviamente la trattazione di tematiche tipicamente comunali, come quelle che incontriamo nei poeti toscani. Uno appunto dei poeti più importanti della scuola siciliana è Jacopo Dalentini. Non si hanno dati certi circa la sua data di nascita e di morte, è certo che nacque a Lentini, vicino Siracusa, all'incirca intorno al 1210, morì intorno al 1260. Fu un notaio alla corte di Federico II, e appunto molti suoi componimenti, tra quelli che ci sono rimasti, sono firmati come il notaro, tradotto in italiano il notaio. Ed è con questo soprannome che viene citato da Dante nel ventiquattresimo canto del Purgatorio della Divina Commedia. Egli appunto fu l'inventore del sonetto, ma codificò anche le forme metriche della canzone. Celebri sono i congedi appunto di Jacopo Dalentini nelle canzoni e nelle canzonette che egli scrisse. In tutto gli sono stati attribuiti 13 canzoni e 23 sonetti. Tra i versi più celebri di Jacopo Dalentini, vi è un sonetto, Amore uno desio. Il sonetto fa parte di una tenzone, cioè di una discussione a più voci, tra diversi personaggi. In questo caso, Jacopo Dalentini e Pier delle Vigne. L'argomento della tenzone è ovviamente il peroramento della propria posizione sulle tematiche amorose, propria di Jacopo Dalentini, in opposizione magari a quanto sostenuto da altri autori. Lo vediamo subito passando proprio all'analisi del testo. Amore è un desio che viene da cuore per abbondanza di gran piacimento. E gli occhi prima generano l'amore, il cuore gli dà un nutricamento. Ben è alcuna fiata o mamatore senza vedere sonnamoramento, ma quell'amore che strigna il cuore dà la vista degli occhi a nascimento. Che gli occhi rappresentano all'ocore da ogni cosa che vede in buono il rio, come è formata naturalmente. E lo cor che di Zou è concepitore, immagina e gli piace quel desio, e quest'amore regna tra la gente. Lo schema ritmico è ABAB per le quartine, core, piacimento, amore, nutricamento, quindi ABAB. Per le terzine troviamo uno schema ritmico diverso, come solito nei sonetti, CDE, CDE, ovvero la prima rima del primo endecasillabo della prima strofa terzina fa rima con la prima rima del primo endecasillabo della seconda strofa terzina. In fila per tre con il resto di due. L'amore per Jacopo Dalentini, e questo è il senso del sonetto, è quindi un sentimento che nasce dagli occhi. È ben possibile che l'uomo possa amare qualcosa che non ha visto, ma l'amore che veramente è tale nasce prima di tutto dagli occhi ed è nutrito poi dal cuore. Sono queste posizioni simili a quanto già sostenuto da un altro autore che abbiamo incontrato, Andrea Cappellano, nel trattato De Amore. Ma l'amore è anche un sentimento che genera anche sconforto nel poeta. Causa, infatti, dolore, come scrive lo stesso Jacopo Dalentini in una canzonetta di Sette Nari, intitolata meravigliosamente. In cor par che o vi porti, pinta come parete, e non pare di fore. Oddeo, come mi par forte, non so se lo sapete, come vamo di buon core. Che o son sì vergognoso, capur vi guardo ascoso, e non vi mostro amore. È un amore, quindi, quello celebrato da Jacopo Dalentini, che crea imbarazzo, appunto, che il poeta non può mostrare, perché non ne ha il coraggio. Osserva la donna amata, ma lo fa senza farsi vedere, senza farsi notare. Un amore, quindi, che può estrinsecarsi soltanto nelle forme della poesia. E non è un caso che nel congedo di questa canzonetta il poeta affidi proprio alla poesia il compito di mostrare il proprio amore alla donna amata. C'è canzonetta novella, andate appunto dalla donna amata, la più bella donna che ci sia per il poeta innamorato. La poesia ha il compito di mostrare, di estrinsecare questo sentimento amoroso nelle forme, appunto, della lirica. Con questi versi si congedava Jacopo Dalentini, con questi versi mi congedo io. Vi aspetto sabato. Parleremo, nel nostro consueto appuntamento di storia, una tematica che può incuriosire tanti, gli strumenti di tortura, provando anche a sfatare alcuni miti. Mi raccomando, non mancate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un like se vi va.